Ciao, sono Consuelo dei Cugini di Pogno. Sicuramente vi sarà capitato di avere degli amici a cena e volete offrire un aperitivo, ma non sapete né cosa né come prepararlo. Oggi vi andrò a far vedere come preparare un apero spesso direttamente a casa vostra. Gli ingredienti che ci servono sono l'apero, il prosecco e della soda, o in alternativa dell'acqua gassata, molto gassata. Allora, andremo a prendere, nel nostro calcio andremo a mettere del ghiaccio, circa 6 cubetti, in alternativa alla pinza potete usare anche un cucchiaio che sicuramente avete. Poi ci servirà dell'apero, potete usare come dosatore una tazzina, e tirla per tre quarti lasciando circa un dito. Poi aggiungiamo del prosecco, per i colacci con il prosecco, circa 3 dita. E come ultimo, in grigiatta andremo a mettere della soda. Aggiungiamo un paio di spicchi d'arancia. Ed ecco qui, direttamente fatto per voi, per i vostri amici, uno squeeze. Ciao, ci vediamo sul prossimo video e vi aspetto.